Cacciare la lingua di scuola e fare la sbuccia fuori, e con il scopo di un programma aggiungere tutto. In pratica, imparare la scuola di strada sportiva perché gli ubbessi parlare ai zidelli, prima struttura entra nel dispositivo, la S Furiana Aliani, che forma il yoga ballo. Uno, i zidelli vengono qui per via di osservazione. Non c'è l'affare di merce intellettuale che porta impegnanti, giusto per la lingua che sia un oggetto. Qui la lingua deve essere un'ernese, ed è un'ernese che deve passare facile perché, o allora, una pratica sportiva in generale, è un affare di esercizi, di ripetizioni, di rituali. Stavur Madzion ed un'ora a Zimanna gusterà 5.000 euro pagati da un'intrabresi zoolan che pude riavinanzare altre. Abbiamo previsto in cui pratica lingua, di fare altri club, di nuovo, in Duvurbur, ma forse in altre attività, e mi caso rimasci, ma di nuovo donne e zidelli. Quest'anno, l'onde già estraore di Vurianis, erano vormati da 10 depo d'Urkini, un amparire a Bardicibadiva e un trao a Luguletiu, posto che il gabulario di Uyogabalo è un dominio linguistico da Reconquista. La lingua in generale è un amparire a Bardicibadiva. Tocca a noi, di inventare i termini con degli incisi, mica d'adattare, pigliando i figli, andando già che li vanno in altre lingue, creando i nostri bobi termini a partire della nostra tradizione, e così, tiki, 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 dac, un amparire, giochendo un amparire. Pella estraore, parla un corso a Nanta Uderenu, buderi a Burru e sedattico. Mi cagui cu i giugi, ma quando i giugi, ma quando i giugi, con tre francesi, e poi parla un corso, capisce no mica, può essere, è meglio ben noi. Udravaglio d'Urupus ispiazza e Raoba Nanta Uderenu, da Sparte lupo 120 isideli, da Ginkwe, a Quindeggià.